3 rigori tutti trasformati, un quarto gol su punizione, 8 a munizioni, 5 a giocatori della Sampdoria, 3 a quelli del Milan. Maraschi portato fuori in barella per una ferita poi suturata con 7 punti. La vittoria per 3 a 2 della Sampdoria sul Milan non si può certo definire priva di vivaci emozioni. Del resto gli spettatori non hanno dovuto attendere molto. Al quarto minuto per questo contrasto tra Santin e Bigon l'arbitro Gonella decreta il primo rigore. Per i Sampdoria c'è anche, ecco la ripresa dal basso, il sospetto di un tocco della palla con il braccio da parte di Bigon ma 4 minuti di proteste ottengono solo le prime ammunizioni. L'allenatore Vincenzi al suo debutto in Serie A non ha parole come la maggior parte dei tifosi. Dirà dopo negli spogliatori. Mi son sentito crollare il mondo addosso quando dopo 4 minuti ci è andato il rigore. Del resto, e torniamo alla cronaca, nessun dubbio sulla possibilità di trasformazione da parte di Rivera. C'è inevitabile qualche momento di sbandamento, poi lo detti alla sua 108va partita consecutiva di campionato. Un record per i giocatori in attività trascina la reazione della Sampdoria. Ecco al diciassettesimo un tiro cross di Bono, poi un'altra azione di Rossinelli ed ancora al ventottesimo una buona occasione per Maraschi anticipato da Vecchio. È in questa occasione che il centro avanti sampdoriano si infortuna. Lo sostituisce molto bene Cristino. La reazione, vivace, a tratti disperata della Sampdoria, comprime il Milan, che agisce solo in contropiede come in questa azione di Benetti, finché al 38esimo per un intervento di Zignoli su Improta, l'arbitro decreta un rigore, il secondo della partita. Segna Improta. Vincenzi stimola alquanto vivacemente la reazione dei suoi. È, ce lo dirà lui stesso alla fine della partita, il segreto dell'affermazione Sampdoria. Un po' li ho caricati anch'io, ma un po' si erano caricati da soli. Eravamo spacciati noi già da tanto tempo. Abbiamo reagito, reagito come si doveva reagire. Riprendiamo la cronaca. Anche i difensori si spingono in avanti e ancora su rigore, fallo di Schnellinger su Rossinelli, la Sampdoria va in vantaggio. Improta ottiene la sua seconda rete con un tiro sulla destra di Vecchio. Nel secondo tempo la Sampdoria mantiene l'iniziativa e dal secondo minuto aumenta il vantaggio con l'unica rete della partita su azione manovrata. Cross di Salvi, finta di Badiani e tiro preciso di Bono. Il Milan cerca di recuperare. Al terzo azione Chiarugi Rivera. Al sesto Chiarugi segna direttamente su punizione. Ecco la marcatura vista da altra angolazione. Tra i più attivi Benetti. Ecco un tiro alto ed ecco un'azione Benetti Rivera che Cacciatori contiene con difficoltà. Un'ultima punizione di Chiarugi con pallone parato sull'angolo, poi la conclusione con il risultato di 3 a 2 in favore della Sampdoria. L'allenatore del Milan Rocco non nasconde la sua delusione e negli spogliatoi si rifiuta di rilasciare un qualsiasi commento.